Walter e Simone Canzian augurano buone feste e un felice anno nuovo. Nuova falegnameria Canzian, Villa Verla. Puntuali come sempre andiamo subito a vedere cosa ci aspetterà nelle prossime ore. La situazione europea sarà caratterizzata dalla presenza di una corposa depressione ricolma di aria molto fredda sulla zona più settentrionale. In transito retroverdo verso il mare del nord. Tuttavia non assisteremo a particolari variazioni delle condizioni sulla pianura padana e sulle Alpi dove la situazione sarà ancora prevalentemente stabile anche se con una maggiore tendenza all'instabilità attesa nel vicino periodo festivo. Analizziamo ora nel dettaglio le previsioni per il Vicentino. Nella notte e mattinata osserveremo un cielo a tratti nuvoloso e a tratti più sereno in un contesto di temperature prossime agli 0 gradi anche in pianura nel corso di tutta la notte. Le ore pomeridiane saranno caratterizzate da nuvolosità via via sempre più compatta in particolare sui settori pianeggianti. Si tratterà comunque di nubi innocue che non daranno luogo a fenomeni degni di nota. In serata non osserveremo alcuna variazione significativa delle condizioni meteo. Il cielo continuerà ad essere parzialmente nuvoloso su tutti i settori e le probabilità di osservare delle riduzioni di visibilità saranno inferiori rispetto agli scorsi giorni. Apriamo ora una parentesi sul quadro delle temperature. Le massime diurne saranno stazionarie o il lieve rialzo in pianura, mentre i suoi rilievi sarà particolarmente freddo, soprattutto nelle ore notturne. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per il prossimo aggiornamento. Arrivederci! Grazie a tutti!